Capitolo 8 Or, quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono, ed ecco un lebroso accostato si gli si prostrò dinanzi, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo, Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante, egli fu mondato dalla sua lebra, e Gesù gli disse, Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Or, quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo, Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse, Io verrò, e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse, Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servitore sarà guarito. Poiché, anch'io son uomo, sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno, Va, ed egli va, e ad un altro, Vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, udito questo, ne restò maravigliato, e disse a quelli che lo seguivano, Io vi dico in verità, che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or, io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente, e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figlioli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Quivi sarà pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione, Va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre, ed egli le toccò la mano, e la febbre la lasciò. Ella si alzò, e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti, e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Esaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità, ed ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba accostatosi gli disse, Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli disse, Le volpi hanno delle tane, e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuol dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellir mio padre. Ma Gesù gli disse, Seguitami, e lascia i morti seppellire i loro morti. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco farsi in mare una così gran burrasca, che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo, Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro, Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, levatosi, sgridò i venti ed il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono maravigliati, e dicevano, Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono? E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così curiosi, che niente di un poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare, Che v'è fra noi e te, figliuol di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Or lungi da loro, vera un gran branco di porci che pasceva. E i demoni lo pregavano dicendo, Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro, Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono nei porci. Ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano, fuggirono, e andati nella città, raccontarono ogni cosa, e il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù. E, come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini. E, come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.